E' la mia fiamma vitale dentro di me, proprio voglio arrivare in fondo e vincere. Lo sapete anche voi che arriveranno, vero? Non parlo di extraterrestri, parlo delle vacanze, come ogni anno via libera ai desideri. Beh, vi annuncio che quest'anno a Castellaneta Marina, sull'incantevole Golfo di Taranto, ho trovato l'impossibile. Anzi, l'ha trovato lui, il mio inviato. Bendetto Benedetta, sono qui a Nova Iardigna per regalarmi relax, benessere e divertimento. Gli Hotel Village, il Valentino e il Calanè hanno magnifiche piscine e un'animazione davvero coinvolgente. In più, ci sono aree giochi e piscine per i più piccoli, senza dimenticare il mare e le sue magnifiche spiagge. Beh, mi sento già più rilassata sapendo che presto sarò lì. E sotto la voce divertimento cosa hai trovato? Oi, bambola! Nova Iardigna è eccezionale in tutto, anche nel divertimento. Qui all'Entertainment Center Felicia ci sono grandi emozioni per genitori e ragazzi. E sorpresa, il primo IMAX Theater d'Italia. E il Parco Divertimenti Feliponte, con i suoi 50 ettari e le attrazioni da capogiro. E i suoi straordinari spettacoli dal vivo conquista le famiglie. E per il divertimento notturno, tantissime occasioni. Beh, è stupendo! Io ho già scelto Nova Iardigna per regalarmi fantastiche giornate di divertimento. Fra il mare, il Parco Feliponte e le meraviglie di Felicia. Nova Iardigna, emozione, vacanza e contatto con la natura. E voi? Cosa aspettate? Chiamate subito il numero verde 840 40 44 per ricevere tutte le coordinate di viaggio. Sirina, Ascanio, Patrick. Sei tua a decidere chi deve abbandonare la casa. Chiama il numero 16476 o invia un SMS al 48455. Per capelli secchi e sfibrati, nuovo shampoo nutriente da Mive Arcare. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Compito a casa, trovare un'idea per cambiare il mondo. Cos'è questo compito? La sua idea. Come ti è spuntata in testa? Passa il favore. Io faccio un favore a te, tu ad altri tre. Ma deve essere una cosa molto importante. Per me è una buona idea. Da chi cominciare? Da loro, mamma e maestro. Dovresti chiamarmi ancora professor Simonette. Hai dormito qui, non è vero? Perché lo torni a letto. Tanto per cominciare. Il premio Oscar Kevin Spacey. Il premio Oscar Ellen Hunt. Con il protagonista di Sesto Senso, Ellie Joy Nosbent. E della passione di Cristo, Jim Caviezel. In Un sogno per domani. In Prima TV Canale 5. Domani alle 21. Qui abbiamo portato via tutto. Tutto? Il nuovo Swiffer. Porta via tutto. Grazie alla sua trama in rilievo, intrappola più polvere sporco di qualsiasi altro sistema cattura polvere. Chi può farlo se non Swiffer? Zen presenta l'unico latte ricco al naturale dei grassi benefici Omega 3 e Clà ad alta digeribilità. Solo da mucche di razza Jersey che producono il latte Zen, allevate in armonia con la natura, otteniamo prodotti unici per una giusta crescita e per l'armonia della vostra linea. In tutti i prodotti Zen trovi la qualità tutta naturale. Cara San Benedetto, sei leggera, effervescente e hai pure pochissimo sodio. Non c'è gusto a gareggiare con te, ma a vertice è molto più gusto. Acqua San Benedetto, leggerezza effervescente. Senti, ma almeno un difetto? Pichino, pichino! Stop agli sprechi! Oggi puoi fare il vero sottovuoto industriale anche a casa con MagicVac. Questo nuovo elettrodomestico ti permette di conservare facilmente alimenti, oggetti, abbigliamento che rimangono inalterati negli appositi sacchetti brevetati o nei contenitori per lunghi periodi di tempo. Con il vero sottovuoto di MagicVac, conservi e risparmi un tocco di magia e ottieni ordine, igiene e freschezza nei casalinghi e ipermercati. Da Flyme Nuova, MagicVac, il vero sottovuoto. Mamma mia! Ciao bella! Un motivo in più per dimagrire con Formula INL 112. Basta assumere una o due compresse prima dei pasti per risparmiare un consistente quantitativo di calorie giornaliere perché il vostro organismo non assimila i grassi alimentari legati. D'ora in poi manterrete il peso sotto controllo con Formula INL 112, direttamente dal vostro farmacista. Formula INL 112 è un dispositivo medico. Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo. Io con gli occhiali e in un batter d'occhio, io e le mie lenti a contatto giornaliere Focus Dailies. Ogni volta lenti nuove, chiare e nitide. Finalmente libera di vedere tutto perfettamente a fuoco. Focus Dailies. Disponibili anche per l'astigmatismo. Ciao. Se non hai tempo da perdere, usa VetMousse. È facile e veloce. Per gambe sexy e lisce più a lungo. Oh se durasse tutto così tanto. Bello, più lisce più a lungo. Se ti lasci pigliare da qualisiasi reazione, scomento, orrore, pietà, sei completamente fottuto. Andrea Camilleri. La prima indagine di Montalbano. Mondaduri. Che detersivo usa? Dasce Biancomarsiglia. Mi ha dato un bianco insuperabile. Mi dia la prova. Questa camicia spesso è sporca di caffè. L'ho lavata con Dasce Biancomarsiglia. È insuperabile il bianco. E rispetto agli altri detersivi liquidi marsiglia? Ah no, però preferisco sì. Come fa a prestatare? Prima lo facevo col sabone. Adesso ho trovato questo bicchiere. Questo smacchiarolo. Con dentro il Dasce Biancomarsiglia. Lo distribuisco così. Poi lo infilo dentro la lavatrice. Non c'è in discussione l'importante, il risultato. Se è vero che mi ami, forse potresti farmi un favore. Mia sorella non si muove dalla casella. E chi farebbe la mia parte? Beh, veramente mi ero offerto io. Tieni d'occhio il bicchiere. Ok. Ma forse ti assomiglio a P. Willian. Sonia, non sarà per niente una passeggiata. Sei sicura? Sì. Alessia Marcuzzi, Ettore Bassi, Roberto Farnesi, Elisabetta Canalis e con Paolo Villaggio. In Prima TV, Carabinieri 3. Martedì alle 21 su Canale 5. Spero! Carabinieri. Per capelli secchi e sfibrati, nuovo shampoo nutriente da Nive Arcare. Sirina, Ascan.